Il Novecento musicale è risorsa importante per la didattica e rappresenta il patrimonio culturale di tutti, fondamentale per la nostra civiltà. Il Novecento rappresenta di per sé un vasto atelier laboratoriale. Scoprirne valori e progettare percorsi caratterizza un agire in grado di entrare in sintonia con le sfide della modernità, in modo autonomo e responsabile. All'azione educativa dei docenti è compito di guidare i propri studenti alla scoperta di tale vasto repertorio, per orientarli nel presente e rendere i protagonisti del loro obiettivo. Impariamo a assumere un ruolo guida nella progettazione di interventi educativi. Grazie per la visione!